Un'esperienza che hanno fatto a quarto già, dove la ripalificazione sociale delle periferie è stata fatta in collaborazione con gli operatori del mercato. È un esperimento che può essere verificato anche qui, magari nei nostri quartieri periferi. Cioè avete già delle idee, avete a quanto parte ci spunto nel vostro girare delle periferie e so che molti di voi lo hanno fatto in queste settimane. Teniamo qui il coranghetti, rappresentante di Agri Mercato Colorello. Bene. Agri Mercato Colorello, sono i mercati di campagna lì. I mercati, l'agri Mercato Colorello, sono i mercati di campagna lì. Comunicato Colorello, sono i mercati di campagna, sono i mercati di campagna, sono i mercati di campagna. Allora, la mia domanda è questa, no? Per valorizzare meglio i nostri strumenti, e anche a comune, dei strumenti di qualità, sicuramente c'è bisogno delle nostre aziende locali. perché abbiamo delle realtà a Comunicato, dove vediamo comparire delle aziende che avvengono per Piemonte e aziende locali non ci sono. Per cui vorrei che queste opportunità, in parte avete già risposto quando uno, ma che è altro lavoro, è che venga presa in considerazione. Dopodiché, i mercati di periferia, guardate, ma scusate, in periferia funzionano perché siamo in mezzo alla gente, tutti i giorni, ma vanno con loro, è un rapporto soprattutto di fiducia, e soprattutto funzionano. Funzionano perché siamo proprio vicino alle case, solitamente ci sono partiegi, per cui la gente è molto contenta anche di questa situazione. La domenica. La domenica, a Comun, sarebbe bello avere i nostri mercati, almeno una volta la settimana, fine settimana o in sinembre, non dipende dall'opportunità che ci parlavano da. Punto per valorizzare questi nostri prodotti. In merito vorrei sapere un attimino voi cosa abbiamo pensato.